FRACAMENTE Francamente, ad essere sincero, vorrei davvero essere in queste settimane Dan Brown. Ma vi immaginate se fossi Dan Brown, se fossi quello scrittore che è Dan Brown di fronte a fatti come le dimissioni di un Papa? Che cosa ci può essere dietro queste dimissioni? Varie storie legate al Vaticano? Mamma mia, veramente sarei una fibrillazione di creatività, forse al limite dell'angoscia perché forse la realtà supera la fantasia. E, pensierino del giorno, vorrei essere Dan Brown. Grazie.